The Space Beauty Religion Dove la bellezza coinvolge tutti i sensi. The Space va oltre il concetto di salone di bellezza. È un hair and beauty loft creato per far vivere un sogno. Chi ama la moda ed è sempre alla continua ricerca di nuove tendenze, troverai il suo ambiente naturale in questo spazio ampio, moderno, chic, unico nel suo genere. Entra nel mondo di The Space e sarai accolta da un team di professionisti del settore che sapranno interpretare al meglio i tuoi desideri ed esaltare il fascino di ogni persona. The Space è davvero lo spazio del beauty dove sperimentare servizi di altissimo livello, non solo per modificare e migliorare il proprio aspetto fisico ed estetico, ma anche per proteggerlo e mantenerlo nel tempo, concedendosi una parentesi di coccole e benessere di cui non si potrà più fare a meno. Se bellezza e benessere sono gli obiettivi di questo progetto, l'ambiente è uno strumento essenziale e nel caso di The Space mira con decisione al wow effect. Non deve quindi stupire se gli spazi saranno utilizzati anche per eventi, presentazioni, shooting fotografici e tutto ciò che ruota intorno al mondo fashion and beauty. Capelli, nail art, consulenza d'immagine, make-up, trucco semipermanente e altro rendono The Space esclusiva e immergono il cliente in un'esperienza beauty a 360 gradi. E in questo angolo di paradiso, dove il Made in Italy regna sovrano, tanto nell'arredamento quanto nei prodotti top quality utilizzati, ogni cliente si sentirà una star ed entrerà in contatto con un'atmosfera rilassante e al tempo stesso dinamica, ricca di idee e proiettata attivamente verso quanto di più in si possa offrire. The Space vi dà il benvenuto e vi chiede di godere di tutti i nostri servizi, anche dell'elegante Coffee Space per assaporare lussuosi momenti di relax tra un trattamento e l'altro. Grazie a tutti i nostri servizi,